Si chiama Alex Crowe ed è un prete a 30 anni di età. Pensate che costui sarebbe scappato nel nostro paese, l'Italia, e sarebbe scappato, pensate, non da solo, ma in compagnia di una fanciulla, di una donna, di una ragazza. Il caso sarebbe nato negli stati d'America, in Alabama precisamente, come avrebbe insegnato teologia all'intorno di un liceo quando i rapporti tra lui e una studentessa avrebbero creato, diciamo così, un certo quantitativo di attenzione di attenzioni. Alex Crowe avrebbe fatto sapere di avere subito dei risorcismi quando da piccolo viviava in una casa che sarebbe stata infestata da fantasmi e da spiriti diffusi, così avrebbe dichiarato, e che cercava di andare a quella studentessa della scuola cattolica, quando vedeva che c'erano degli atteggiamenti piuttosto duplici, piuttosto atipici. Va bene? Insomma, una vicenda incredibile sembrerebbe, ripeto, che don Alex Crowe si troverebbe, ripeto, qui in Italia, qui nel nostro paese. Va bene? La ragazza comunque faccio sapere che è molto intenzionata, come si legge sul web, a non tornare più in Alabama, negli Stati Uniti d'America. Va bene? Questo sarebbe quanto. Non vi dico di chi si tratta, nel nome e nel cognome, anche perché non sono presenti nel web, non vi dico l'età di questa donna, di questa fanciulla, ognuno può trovare notizie sul web. Si è chiaro che questo video non vuole leggere la privacy di don Alex Crowe, ma solo informare eventuali persone. Naccio solo per questo motivo, non per altri motivi, non per altre ragioni. Ciao dal vostro narratore italiano di YouTube Italia. Ciao a tutti.